Si chiama Olga Zelkova, è una giovane donna russa, la quale pensate che sarebbe stata orientata in territorio ucraino. È una giornalista, ma è anche una propagandista, in pratica l'avrebbero abusata, l'avrebbero orientata. I ceceni, Olga, avrebbe deciso di denunciare lo scandalo e avrebbe messo letteralmente il presidente Vladimir Putin in imbarazzo. La donna sarebbe stata aggredita a Meritopo, nella regione di Zaporzegna, il 17 gennaio 2023. La vicenda ovviamente è intricata e complessa, ma adesso le priorità vogliono vederci chiaro, anche per comprendere cosa effettivamente parlando, è caduta la donna in questione. Dal vostro caro narratore italiano di Youtube Italia è tutto, iscrivetevi, se vi va mi raccomando, commentate un cordiale di saturno a voi, e a prossimo.